Sono Shazan Siras. Da dove vieni? Da Bangladesh. Come si chiama il paese, da dove vieni? Da quanti anni sei in Italia? Quasi sette anni. Che lavoro facevi nel tuo paese? Nel mio paese ho presentato dei pesci. Mamma e papà vivono io solo. Noi due fratelli e tre sorelle. Non ho fatto da moglie, non ho niente. Non ho niente, non ho niente. Il problema dell'avione è che tutti rompono, portano tutto via, portano al mare. Dopo io non ho soldi, come posso lavorare? Il problema è questo. Come si è riuscita a fare il paese? Firmato in Livia non poter andare in paese. Non c'erano. Dopo la seconda volta, l'unico prima di guerra è fermato. Fermato, non è arrivato in Livia. Dopo arrivato in Livia, è ancora nuovo in guerra. dopo non è dove andare, magari massare, magari morire, dopo altri amici parlano, andiamo di là, dopo penso di morire, anche di là morire non c'è problema, andiamo, barca, dopo è arrivato magari otto ore affassato, barca, mare, magari barca di acqua dentro, magari quasi ancora un'ora, due ore affassato, tutti morti, dopo è arrivato quando è visto di una nave, nostra barca, visto di una nave, loro arrivano subito, arrivano subito, loro prendono uno del tubo dentro, mettono la barca dentro, tirano acqua, come il fire service, acqua, vigili del fuoco, tirano tutti subito acqua, dopo una persona tirano di sopra, dopo quando qualcuno si è malato, loro hanno fatto del dottore medicina, qualcosa, dopo altre persone siedono nella barca sopra, dopo magari 36 ore così, magari, 30, 36, ora è arrivato del Taranto, non è andato di più a Bangladesh, loro dai 10 giorni, magari mamma, papà portate qui, boh basta, non voglio andare di là, non è importante, perché io non c'è altri qualcuno, solo io mamma, papà portate qui, boh basta, solo lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.